I mercati iniziano una fase di rialzo, aprono la settimana con una fase di rialzo iniziata a dire la verità nella giornata di domenica. Questa fase continuerà in questa settimana, siamo alle prese con un tentativo di rompere i precedenti massimi intorno ai 9.000 dollari. Lo vedremo nel video di oggi. Bene, ciao a tutti, bentornati nel video del lunedì, aggiornamento, analisi tecnica, analisi grafica e analisi ciclica dei mercati delle criptovalute. A iniziare da Bitcoin, poi passiamo anche oggi in rassegna Ethereum e Binance. Facciamo il punto della situazione, molti di voi me l'hanno scritto anche nei video che ho pubblicato questa settimana sul canale, dicendomi che serviva un aggiornamento ciclico, a dire la verità ragazzi, se fosse servito un aggiornamento ciclico rispetto a quello che avevamo detto nella giornata del lunedì scorso, lo avrei pubblicato sul canale Telegram, come sempre faccio, perché se ci sono delle giornate particolarmente movimentate, giornate particolarmente difficili da comprendere, do sempre una mano, do sempre il mio punto di vista sul canale Telegram, anche se non faccio in tempo magari a fare il video su YouTube. Quindi tranquilli che se c'è qualcosa da dire di aggiornamento la faccio sempre sul canale Telegram ragazzi che è gratuito, trovate il link in descrizione se volete registrarvi. Oggi andiamo a vedere da un punto di vista ciclico quello che sta succedendo da ieri, in particolar modo con i rialzi di domenica e di oggi lunedì. E' iniziato il nuovo ciclo mensile da un punto di vista di analisi ciclica oppure siamo nel famoso ciclo ternario? Rimane questo dubbio e vi farò vedere anche come il mercato non ci ha ancora svelato le sue carte, ma vi darò anche l'indicazione durante questo video per farvi comprendere quale livello dobbiamo monitorare per capire se siamo in un nuovo mensile, quindi il mercato sta andando a cercare nuovi massimi rispetto a quelli delle scorse settimane oppure siamo in una seconda parte di un ciclo doppio? Ragazzi il famoso ternario ve ne avevo parlato un paio di video fa, in quel caso il mercato avrà difficoltà a superare un determinato livello. Monitoriamo i due livelli che sono fondamentali, andiamo a vedere quello che sta succedendo, vediamo anche perché questo tipo di momento e questa settimana ma anche l'altra saranno di grande importanza per il prosieguo del movimento dei mercati criptovalute nelle prossime settimane. Abbiamo visto anche come le altcoin siano state belle floride, belle arzille nelle scorse settimane, attenzione perché alcune di loro hanno dato segnale long anche questa settimana. Andiamo a spostarci sul grafico ragazzi così facciamo subito il punto della situazione. Grafico di bitcoin, immediatamente vediamo quello che effettivamente vi ho più volte accennato, questa fase di ciclo mensile è stata chiusa probabilmente nella giornata del 24 di gennaio, questo minimo del 24 di gennaio assume sempre di più un minimo di chiusura ciclica, ma è un po' lungo, è vero ragazzi, perché sono 37 giorni, è un po' lungo rispetto ai cicli precedenti, ma da un punto di vista teorico l'analisi ciclica insegna quella classica ragazzi, ai mercati delle cripto io la elaboro sempre secondo le mie conoscenze maturate negli ultimi 10 anni e la modifico un po' perché non può essere applicata in maniera così perfetta, però la tecnica, la teoria ciclica ci dice che un ciclo rialzista, soprattutto nelle parti iniziali, come può essere questo che è un ciclo mensile, probabilmente nuovo, sicuramente non appartenente ai precedenti, è più lungo, quindi può darsi diciamo che questa fase di 4 giorni in più rispetto al solito ciclo di 30-33 giorni sia tutto sommato normalissima ragazzi, quindi io al momento mi sento di dire che questo tipo di view ciclica, la chiusura del mensile che attendavamo intorno al 19-20 di gennaio, che è stata fatta il 24 di gennaio, possa essere definita come una normale ciclo mensile chiuso, anche se è un po' più lungo del solito. Al momento questa è la mia ipotesi principale, quella che io sposo come l'ipotesi principale del mercato, cosa deve fare però il mercato Bitcoin per darmi la conferma definitiva di questo tipo di ipotesi, e poi vi farò vedere anche che io sono già entrato long con uno dei miei trading system, anzi ve lo faccio vedere direttamente, ma anche col progetto che stiamo portando avanti ragazzi sul canale con la dollar cost average, che vi sto facendo vedere in real time come la dollar cost average opera confrontata con due strategie ragazzi, andatevi a vedere la playlist, vi lascio qui il link qui sopra di questo esperimento dal vivo. La terza strategia con la quale stiamo confrontando la dollar cost average era quella mia, personale del trader ragazzi, e vi faccio vedere che nella giornata di ieri anche questa strategia, la numero 3 vedete, è andata long con un pezzo, non con due pezzi, gli altri sono già operativi di due ingressi, mentre io sono entrato solo con un ingresso nella giornata di ieri, il secondo sarà alla rottura dei 9000. Questo per farvi capire ragazzi come quello che dico anche in questi video e quello che poi faccio anche personalmente, l'ipotesi principale è che sul minimo del 24 si è stato concluso il ciclo mensile, questo primo ciclo mensile ed è il primo rialzista ragazzi da un sacco di tempo, è il primo rialzista da un sacco di tempo, molto molto importante. Dopodiché qual è il livello di resistenza da battere? E ragazzi questo qui 9000, 9000 rappresenta in questo momento il livello di resistenza chiave di bitcoin da battere per avere un'ipotesi di nuovo mensile confermata anche dai mercati, in particolar modo dobbiamo salire al di sopra di questo massimo e chiuderci ragazzi a livello daily, è fondamentale questo, considerate che questo massimo è intorno al livello di 9169 quindi 9200, la resistenza di medio è 9000 ragazzi in potestà daily, coincidente con la media mobile a 200 periodi sul time frame daily, il massimo precedente e cambierà le sorti di questo mercato, vi farà un po' di resistenza in questo tipo di livello, tenetelo a mente ragazzi, non andate a comprare magari long sui 9000, aspettate un po' perché vedrete se il mercato supera o entrate prima o aspettate, questo è il concetto. Se non dovesse essere così, se il mercato ci dà la famosa visione ternaria, cosa succede, qual è l'idea generale? L'idea generale sulla visione ternaria è che il mercato abbia fatto dei cicli che sono composti così ragazzi, da 23 giorni, quindi uno l'ha già chiuso e questo dovrebbe andare in chiusura tra un poco e dopo chiudere definitivamente così con l'ultimo ciclo. Quindi in teoria dovremmo avere questa visione, mi è uscita un po' male la ridisegno ragazzi, e questo dovrebbe essere la visione ternaria di questo ciclo. Se il mercato andrà a rispettare questa view, cosa succederà? Che con difficoltà avremo il superamento della resistenza di 9000 e dopo, subito dopo, in maniera abbastanza veloce, il mercato dovrebbe andare a correggere, a fare un minimo simile o inferiore a quello fatto il 24 di gennaio. Quindi io direi ragazzi, queste due giornate sono molto forti al rialzo. Intanto questo rialzo va testato, va provato, come vi ho fatto vedere anche io stesso sono entrato con quella strategia che noi stiamo facendo in paper trading per farvi vedere come funzionano. Ed è giusto questa logica, al di là di quello che succederà. Se il mercato non scende, non ritraccia, già nella giornata di oggi, ma domani, già tardi ragazzi, e inizia a dimostrare debolezza e andare giù, io la visione ternaria incomincio a scricchiolare. Poi il mercato ci ha abituato a fare sempre cose strane, questo è giusto, però ricordatevi assolutamente che non bisogna andare contro trend, in questo momento lo short lo abbandonerei, già non lo faccio da settimane, mesi addirittura, lo sapete benissimo. Quindi, insomma, la resistenza da battere è questa. Attenzione ragazzi, perché ne parliamo nel prossimo video di questa settimana, vedrò quando pubblicarlo, probabilmente, non so se domani o mercoledì ragazzi, adesso vedo, perché dobbiamo guardare un grafico su Bitcoin, che è un grafico importantissimo, che si va a concludere entro quattro giorni, cioè quello del mensile. Vado a fare un video speciale, solo e unicamente, su questo grafico, perché è un grafico importantissimo in questo momento, in quanto se Bitcoin ha chiuso il ciclo annuale, quello che deve fare, probabilmente, nei prossimi mesi è galoppare ragazzi al rialzo. Quindi è una grande occasione, ne ho già parlato tempo fa, dicendo che probabilmente ci troviamo di fronte a uno dei momenti più importanti per i prossimi anni, questa cosa merita attenzione ragazzi, quindi farò un video a riguardo. Iscrivetevi quindi al canale ragazzi, se ancora non l'avete fatto, attivate anche la campanellina per avere le notifiche relativamente a questi video, un momento un po' concitato sui mercati criptovalute. Bene, allora vi ho dato la resistenza chiave. Al ribasso, al ribasso ragazzi, fa da super supporto, questo minimo a questo punto, che è il minimo a 8250, quindi 8250, un classico di resistenza, di supporto in questo caso, e anche l'8000, che adesso cambiamo che il nome ragazzi, che ho lasciato quella vecchia, che diventa un supporto in questo momento. E ci siamo ragazzi, quindi questa è la view in questo momento di Bitcoin. Superato a questo livello, attenzione, perché il mercato potrebbe seriamente accelerare. Andiamo su Ethereum per vedere. Non mi dilungo molto ragazzi su Ethereum, perché è la stessa cosa di Bitcoin, ci troviamo di fronte allo stesso tipo di concetto ciclico e tecnico, che vi ho appena spiegato, quindi inutile andare a reiterare. C'è una buona correlazione dei mercati, una buona correlazione su Bitcoin. Io stesso ragazzi, in questo mese, sto sviluppando le mie ricerche, relativamente all'analisi delle altcoin verso Bitcoin, quindi per sviluppare dei nuovi sistemi di trading, che opereranno con valuta base Bitcoin verso altcoin. Mi interessa, perché io credo che i prossimi mesi possono dare soddisfazione anche alle altcoin, e quindi in questo caso, diciamo, accentro la mia ricerca statistica, anche su questa materia, cosa che non ho mai fatto, voi sapete bene, negli ultimi due anni. È difficile che si inverta il trend della dominance, e che quindi le altcoin diventino principali sul mercato. Bitcoin resta leader, ancora la dominanza è fortissima ragazzi di Bitcoin, quindi se avete il vostro tesoretto investito in Bitcoin, siete in una botte di ferro, però delle opportunità speculative importanti, potremmo trovarle tranquillamente sulle altcoin, e quindi io faccio il trader ragazzi, via con le danze, c'è la speculazione, mi piace così. Allora, nuova livello, ancora per Ethereum, intanto la conferma della resistenza a 160, rotta, e poi pullback, vedete, dall'alto verso il basso, da manuale di analisi tecnica, resistenza stratosferica, questa qui, rotta, pullback ha resistito, ora cosa deve fare qui? A qualcuno di voi dovrei fare una domanda, ma molti di voi mi stanno rispondendo in questo momento, lo so, mentre vedete il video, superare i massimi a questo livello qui. se lo fa, supererà ancora una volta la media mobile a 200 periodi, che è questa che vedete, e dà un segnale di continuazione di questo trend, di questo trend rialzista, che sta disegnando. E poi avremo i nuovi livelli di resistenza, che sono ad esempio, già a 200 dollari, questo qui, quando poi c'è il livello super, livello di resistenza, che è a 230. ma ancora una volta, questa 160, a questo punto, si trasforma in supporto, e lo scriviamo ragazzi, ok? Trasforma in supporto, e ancora una volta, la view ciclica, ci dice, 37 giorni, anche su Ethereum, ora, o facciamo un nuovo ciclo, 37 giorni, oppure ancora una volta, siamo sul ternario. Però non mi dilungo ragazzi, perché, non mi dilungo, perché, è la stessa view di Bitcoin, quindi non la ripetiamo, vi ho dato solo i livelli, che sono diversi ovviamente, su Ethereum, 160 è un livello di supporto, deve reggere in cross daily, al di sopra di questo, il massimo che invece è 180, in questo momento, si sviluppa, il nostro trend, di conferma del nuovo mensile, e poi, vedremo nei prossimi video, dove andrà a parare Ethereum, quindi long, anche su Ethereum, però, a questo scoglio ragazzi, così come Bitcoin. Ancora una volta, Binance, identica, come un orologio svizzero, a Bitcoin. Ancora una volta, 37, 38 giorni su Binance, uno in più, fesserie, per quanto riguarda la close ciclica, di Binance. Binance è messa un po', troppo lontana, dalla sua media mobile a 200 periodi, però, veramente molto bello. Ragazzi, che cosa, che, diciamo, figura, di, stanno disegnando, le criptovalute, vedete ragazzi, è una figura di inversione, poi, non sappiamo quanto dureranno questi trend, però, è un bel momento, questo qui, anche per operare, magari in maniera prudenziale, in maniera da trader professionista. Qual è il scoglio principale di Binance? Questo ragazzi, lo scoglio principale di Binance, è questo livello di resistenza, 21, 21,50, ed è uno scoglio importante, ancora molto lontano, però, vuol dire che anche, c'è tanto spazio. se qui è iniziato un nuovo mensile, sicuramente Binance, deve andare a rompermi, i precedenti massimi, così come Bitcoin, e così come Ethereum, i precedenti massimi, stanno intorno, ai 18,60, quindi questo che diventa, la nostra nuova resistenza. Ragazzi, questo potrebbe essere, il primo mensile, rialzista, di questo nuovo ciclo, che interrompe, quella che era, il trend ribassista, che era durato, buoni 6,7 mesi, quindi è importante, questo ciclo mensile, perché se confermato, se si va quindi sopra, queste resistenze, significa che il mercato, è uscito da quella fase, e ne sta disegnando un altro, poi dovremo vedere, questa nuova fase, cosa farà, se andrà a rompere, i massimi precedenti, di giugno, e quindi insomma, ci aspettano tempi d'oro, oppure sarà, un trading range, il mercato, non svela mai le carte, non è possibile, per vedere il futuro, ma è possibile, seguire il trend, come dico sempre, in settimana, il video aggiornamento, sul grafico mensile, di bitcoin, per farvi vedere, in che punto siamo, e soprattutto, la grande importanza, di questo momento, perché fra, quattro giorni, inizia il nuovo mese, e il nuovo mese, avrà un compito, molto arduo, lo vedremo, nel prossimo video, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, e lasciatevi un mi piace, ciao a tutti, buon inizio, settimana, a tutti, e lasciatevi un mi piace,